Amici di Football is My Life, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi sono qua per parlare della partita alla qualificazione Mondiali 2022 in Qatar, Italia-Irlanda del Nord 2-0. Allora, parto col dire che i Mondiali in Qatar mi stanno sulle palle già in partenza, mi stanno sulle palle già in partenza, perché non è che li andrai a giocare a giugno, luglio, come tutti i Mondiali o gli europei normali. No, no, li andrai a giocare in pieno inverno durante i vari campionati, con poi anche la conseguenza che ci saranno le squadre decimate, perché ogni qualvolta ci sono le nazionali, come per magia si spacca sempre qualcuno. C'è gente che sostiene che questo sia un caso, ma mi dispiace, la risposta è no, perché le nazionali alterano le preparazioni fisiche ed atletiche dei vari giocatori. Però, a parte questa mia considerazione, lo dico anche un po' a malincuore, perché a me vedere giocare i Mondiali, gli europei piace, però insomma, metterli durante un campionato anche no. Comunque sia, Italia-Irlanda del Nord 2-0. Cosa dire, una vittoria tranquilla al termine di una partita loffia, una partita giocata a ritmi bassi, insomma, una partita un po' del cazzo, diciamocelo chiaramente. Una prestazione dell'Italia sufficiente alla fine, nel senso, una gara che nel primo tempo è andata in discesa dopo il gol di Berardi. Secondo tempo, invece, in cui ho visto un'Italia più superficiale, ha commesso qualche errore evitabile, però, insomma, non hai mai avuto la sensazione che non si portasse a casa la vittoria, vista anche la pochezza del nostro avversario. Irlanda del Nord che prende il primo gol lasciando delle praterie a Berardi. Secondo gol, il portiere ha le sue belle responsabilità, perché prende un gol come un pollo sul primo palo. Centrocampo con poca qualità, attacco non incisivo. Insomma, una nazionale dell'Irlanda del Nord che, a mio modo di vedere, andrebbe a perdere anche contro squadre che lottano per la salvezza in Serie A, giocano per la promozione in Serie B, quindi, insomma, una nazionale che vale veramente poco. Per quel che riguarda l'Italia, ripeto senza problemi quello che è il mio giudizio su una nazionale. Una nazionale che ha più talento rispetto all'Italia di 4-5 anni fa, però, allo stesso tempo, è un'Italia con troppi giocatori che non sono abituati a certi palcoscenici e che agli europei in determinate partite coleranno. Alla fine, se si pensa alla nazionale, pensi un po' anche alle nostre squadre italiane nelle coppe europee, che possono anche far vedere un buon calcio, ma che quando si deve arrivare lì, al nocciolo della questione, cadono a picco. E lo stesso succederà alla nostra nazionale. Spero di sbagliarmi, però, insomma, la mia idea è questa. Comunque sia, andando poi un po' a vedere le pagelle dei vari giocatori, Donnarum 6, è un po' la media tra l'avere chiuso bene la porta in faccia al loro attaccante, in un'altra situazione invece gli hanno tirato la palla addosso e nel finale di partita ha commesso un errore quando doveva gestire la palla con i piedi e quindi, insomma, la media tra una buona cosa, un errore dell'avversario e una sua stronzata ti viene 6. Bene, Florenzi, uno dei migliori in campo, 6 e mezzo. Buona prova sia in fase di spinta che in fase di copertura, condita poi dall'assist per il gol di Berardi. Coppia centrale, Bonucci e Chiellini, 6, una gara sufficiente. 5 e mezzo per Emerson Palmieri, che invece non mi ha convinto tantissimo. 6 a Lorenzo Pellegrini. Locatelli, 5 e mezzo. L'ho visto un po' più disordinato ed impreciso del solito. Dopotutto, però, lui non è un regista che può giocare davanti alla difesa. Lui è una mezzala, un centrocampista che contrasta, verticalizza, ha il tiro da fuori, non ha le caratteristiche per giocare come regista. E da tifoso del Sassuolo dico, buon giocatore sì, giocatore che con De Zerbi è cresciuto anche, però non lo vedo come un giocatore che possa giocare in una squadra che vuole vincere. Quindi, no, non è un giocatore da Juventus. Non lo puoi prendere qualora volessi puntare a vincere lo Scudetto. Se vuoi puntare a vincere la Champions, non dovresti neanche nominarlo. Verratti, 6. Verratti, migliore in campo tra le fila degli Azzurri, 6 e mezzo, 7. Sono indeciso che voto Dargli. Facciamo 7- dai, 7- perché buon primo tempo per lui, il migliore sicuramente tra gli Azzurri. Goal a parte ho visto un giocatore vivace, un giocatore fresco, un giocatore sempre nel vivo dell'azione. Cala invece nel secondo tempo. Immobile, 6 più. Bene per il gol, però insomma ne ho sbagliati altri due davanti alla porta. Insigne, 6 giusto per l'assist. Per il resto, non mi pare che abbia fatto chissà che cosa. Subentrati, 6 Spinazzola, 6 Barella. Senza voto invece, Pessina, Grifo e chi è quell'altro? Di non mi ricordo. Chiesa, allenatore Mancini, 6. Quindi insomma, alla fine, un'Italia da 6 in pagella. Nulla di che, però quel poco che bastava per vincere questa partita. Va bene ragazzi, questo è stato un po' un rapido riassunto di Italia-Irlanda del Nord 2-0. Fatemi sapere cosa ne pensate. Io come al solito non mi invito a iscrivervi al canale YouTube, a seguirmi su Facebook, a seguirmi su Instagram, a lasciare un commento, a lasciarmi un piace, a spammare questo video in ogni singolo punto del planisfero. Detto questo vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!